Le prime ripercussioni dell'effetto Covid-19 si toccano già con mano nel retino. Nei primi tre mesi del 2020 si è registrato infatti un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di 230 imprese, un dato particolarmente critico, uno dei peggiori degli ultimi dieci anni. Questi sono alcuni degli elementi che emergono dallo studio della Camera di Commercio, dal quale si nota anche che sono in netto calo sia le iscrizioni meno 16,5% che, in misura minore, le cessazioni meno 9,5%. Tra gennaio e marzo si registrano inoltre 561 nuove aperture a fronte di 672 dello stesso trimestre dell'anno precedente e 791 chiusure contro le 874 del 2019. Il bilancio dell'annati mortalità delle imprese tra gennaio e marzo, sottolinea Marco Randellini, segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo Siena, è condizionato dalle abituali chiusure comunicate sul finire dell'anno precedente, alle quali però per questo 2020 si vanno ad aggiungere gli effetti delle restrizioni seguite dall'emergenza Covid-19 e dallo stato di eccezionalità in cui l'economia reale si sta muovendo in questo periodo. Se ci concentriamo sul mese di marzo, siamo in grado di cogliere le prime ripercussioni prodotte dall'emergenza sanitaria. Vediamo infatti che, più che condizionare il dato delle chiusure aziendali che anzi diminuiscono, sembra esserci stato un effetto scoraggiamento per quanto riguarda le nuove iscrizioni, 65 e meno rispetto al marzo 2019. Pur nella sua provvisorietà appare invece positivo il dato che vede un aumento del numero degli addetti che superano le 120.000 unità, soprattutto nel manifatturiero e in particolare nel settore gioielleria e oreficeria. L'auspicio è che, grazie anche ai vari interventi a sostegno della liquidità azientale e il supporto alle piccole e medie imprese, il sistema imprenditoriale possa recuperare il più rapidamente possibile i livelli di operatività e di fatturato pre-Covid-19 e mantenere i livelli occupazionali raggiunti.